Musica Bene, eccoci insieme anche oggi, trasmissione a colori quella odierna perché con noi c'è Mauro Di Matteo che è il presidente di Ada Veneto. Ada Veneto è l'associazione difesa degli anziani, un'associazione di volontariato per la tutela dei diritti della terza, della quarta e della quinta età ma anche per la qualità della loro vita e tra le tante iniziative oggi parliamo in particolare di una mostra in corso di svolgimento fino al 7 aprile a Venezia, omaggio degli artisti veneziani all'ospedale San Giovanni e Paolo in occasione del bicentenario, quindi dal 1819 al 2019. Il tutto organizzato con un gruppo che devo dire già nel nome, insomma, denota l'entusiasmo con cui si vivono queste esperienze ed è il gruppo Esploratori Artisti Veneziani. Partiamo da questo nome che devo dire il termine esploratore è veramente singolare. Esploratori perché sono persone di vario tipo, di vario genere, ci sono maestri d'arte e ci sono anche giovani che stanno entrando nel mondo dell'arte dando il loro contributo a questo gruppo che sta crescendo continuamente. Perché il vostro scopo è sempre quello di trasmettere i saperi della tradizione veneziana. Trasmissione dei saperi. Il titolo di tutto questo progetto che noi stiamo sviluppando è Trasmissione dei saperi. Questa prima fase, questa mostra che abbiamo fatto, ha messo insieme tantissime persone chiamate esploratori, i quali hanno lo scopo di presentare le loro opere ma anche di accompagnare i ragazzi delle scuole che abbiamo interessato, che stiamo coinvolgendo a visitare queste opere e non solo, anche vanno loro stessi nelle scuole a mostrare le loro opere e cercare di creare con i bambini piccoli opere d'arte che poi verranno sviluppate in un progetto che stiamo sviluppando. Ecco, al presidente di un'associazione di volontariato, ma mi viene da pensare anche a una sorta di, tra virgolette, sindacalista della terza età, non ritiene che l'esperienza degli anziani la si valorizzi troppo poco oggi? Certamente. Infatti alcuni progetti che si stanno sviluppando anche a livello regionale sono proprio indirizzati al fatto di far sì che l'anziano diventa attivo nella società. Infatti tutto quello che noi stiamo mettendo in piedi, che è una cosa che si svilupperà nell'arco di tutto il 2019 e 2020, ha proprio questo scopo. Il far sì che gli anziani siano messi a disposizione, si mettano a disposizione dei giovani per ragionare sul futuro anche dei giovani. È una cosa un po' complicata, ma cercherò di spiegare in qualche maniera come funziona. Eh, ci dica, ci dica. Allora, trasmissione dei saperi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci mettiamo a lavorare perché gli anziani possano trasmettere. Come trasmettere? Noi abbiamo, contemporaneamente a questa iniziativa, è partito un bando per tutte le scuole dove ai bambini viene chiesto un'opera. Un'opera che permetta loro di sviluppare le loro idee sempre legandolo ad arti e mestieri. Queste opere verranno presentate il 2 maggio. il 2 maggio, grazie anche all'ottima collaborazione che stiamo avendo con l'Istituto d'Arte Guggenheim e la Preside, faremo la premiazione di queste opere. E questo è un primo atto. Addirittura uno di questi artisti, che è esploratore, che è, non nomino perché è il signoretto, della migliore opera la trasformerà in vetro per dare un senso di sviluppo e di esplorare. Ecco perché gli artisti che avete coinvolto sono sostanzialmente artigiani, ma di tantissimi rami di attività. Sono obisti, obisti, artigiani e anche persone che fanno altri mestieri. C'è chi fa bigiotteria. C'è chi fa arte del vetro, naturalmente. Ci sono persone che sono artigiani veramente, persone che magari fanno, ci sono alcuni medici che fanno i medici, ma si divertono anche a fare queste cose. Ci sono altri che fanno altre professioni, ma si divertono a fare queste cose. I saperi sono quelli, sono della tradizione della manualità. Esatto, esatto. Devo dire che da quando abbiamo cominciato questa esperienza all'interno dell'ospedale civile di Venezia, nella bellissima Sala delle Colonne, e ringrazio anche pubblicamente l'Ulis Trek che ci ha permesso di usare queste stanze, abbiamo molte persone che si avvicinano, che vogliono partecipare a queste nostre attività, che saranno proprio quelle di creare e trasmettere ai ragazzi, in particolar modo, il sapere, come si fa una cornice, come si fa, si restauro un mobile, come si sistemano alcune cose. Tutto un insieme di cose collegate. Ecco, torniamo ai diritti degli anziani, perché mi interessa molto come tema. Secondo lei la nostra è una società a misura dell'anziano? No, no. Anche se devo dire che la politica sta pensando molto all'inclusione dell'anziano all'interno della società. C'è un problema che l'anziano ha difficoltà di, secondo me, di essere messo a conoscenza dell'evoluzione, perché molto spesso il linguaggio che noi usiamo è un linguaggio difficile, lo usano le istituzioni, lo usa la politica, lo usa il sindacato, un linguaggio molto difficile che molto spesso l'anziano non lo capisce bene, anzi lo interpreta molto spesso in maniera diversa. Allora, queste associazioni hanno proprio lo scopo anche di coinvolgerlo, di creare un momento di consenso. Al più noi abbiamo, oltre a questa iniziativa, che si svolgerà, come dicevo, il 2, 3, 4 maggio a Venezia, in Campo Santa Margherita, che sarà lì il momento clou di tutta l'iniziativa, ci sarà teatro, ci sarà dimostrazioni di... Gran Festa. Oltre a questo noi abbiamo anche moltissimi volontari, abbiamo circa 200, che fanno attività di vario tipo e vario genere. Ci sono quelli che con le macchine trasportano persone con disabilità, che hanno bisogno magari, faccio l'esempio di Chioggia, Chioggia è molto distante dall'ospedale principale, che è l'ospedale all'Angelo, perciò sono dei nostri volontari che portano gli anziani in ospedale. Ma il bello è che sono anche quelli che trasportano, oltre che trasportati, anziani. Cioè l'anziano diventa utile per un meccanismo di aiuto che dà aiuto. Ecco, noi abbiamo questo tipo di slogan. Poi abbiamo, faccio un altro esempio, portandomi in un'altra parte del nostro territorio, abbiamo a Portoguaro un gruppo di persone che accolgono gli anziani che vanno negli ospedali e entrare in un ospedale per un anziano non è facile, perché ci sono le macchinette per pagare il ticket. I nostri aiutano a pagare il ticket, sempre persone di una certa età che collaborano. collaborano proprio. Una sorta di auto aiuto. Esatto, a vedere un totem dentro un ospedale per uno magari che ci ha lavorato capisce. Uno che entra, magari per la prima volta, difficile che un anziano sia per la prima volta, però che ha questo impatto, su questo impatto ha qualcuno che lo aiuta a capire. E poi ci sono tante altre cose, di carattere culturale, di carattere... facciamo tante cose. Anche perché lo dico con un po' di ironia, ma non può girare tutto attorno all'ospedale. Esatto, esatto. Due iniziative, capisco che sia una necessità. Però ecco, invecchiamento attivo, questo è il cappello di tutto. Infatti noi siamo con le scuole e nelle scuole, perché è il terzo anno che facciamo e distribuiamo borse di studio anche importanti, perciò chi vince ha una borse di studio che viene offerta da chi ci ha aiutato, poi noi facciamo raccolta 5 per 1000, perciò con 5 per 1000 raccogliamo dei soldini e li distribuiamo nelle scuole. Perciò il grande rapporto con noi delle scuole è anche attraverso gli artisti esploratori, i quali hanno questo meraviglioso compito dal punto di vista mio. Proprio ieri sera mi sono arrivate le foto di un artista che ha fatto un'iniziativa su una scuola e ci ha mandato le foto dei lavori che i bambini hanno fatto grazie alla sua conoscenza, alla sua capacità. In qualche maniera, devo dire, in maniera più professionale è un po' il recupero della figura del nonno di una volta, che trasferiva il sapere. Sì, esatto. Credo che sia questa la strada più giusta. Per concludere, secondo lei nella società di oggi il momento della pensione, che dovrebbe essere un'occasione di festa dopo che uno ha fatto il proprio percorso lavorativo, è gioia o è preoccupazione? Per me potrebbe essere gioia se la società, le associazioni riescono a mettere insieme un sistema per cui la vecchiaia, l'anziano, sia un soggetto che può essere ancora utile per la società, magari in maniera diversa, o anche continuando la sua… mica tutti hanno fatto un lavoro che non gli piaceva, molti hanno fatto un lavoro che gli dava soddisfazione. Cioè su quel lavoro, su quella esperienza di vita, con la sua conoscenza, trasmettere questo conoscere ai ragazzi. E questo credo sia la cosa più bella che ci sia, perché io con quelle poche esperienze che ho avuto, io ricordo che sono andato a scuola con un professore a parlare di una mostra che è stata fatta in un altro ambito, sulla mostra l'altro anno sul centenario della Prima Guerra Mondiale e l'entusiamo di questi bambini, vedere questa mostra fatta sull'immagine dei posti della Grande Guerra è stata veramente una cosa che fa crescere anche l'anziano. Grazie a Mauro Di Matteo che ricordo di essere il presidente di ADA Veneto, Associazione Diritti degli Anziani, ricordiamo queste due iniziative fino al 7 aprile, omaggio degli artisti veneziani all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia in occasione del bicentenario e poi sempre nel Centro Storico Lagunare all'inizio di maggio, la grande festa conclusiva di questo progetto per la trasmissione dei saperi veneziani. che verrà esportato in tutto il Veneto. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro a voi, alla prossima. Grazie.